Il tuo prossimo incarico Il tuo prossimo incarico Lei? Beh, anche i cambiamenti di regime hanno un lato positivo Ok, il tempo corre, baby! Devi raggiungere Alifano prima che arrivi all'albergo! Ok, il tuo prossimo incarico Ok, Alifano è atterrato! Vai subito sul posto! Muoviti! Ok! 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 Oh, ti ammazzo! Benvenuto, signor! Allora, dove sono i tuoi uomini? Hai forse avuto qualche problema con la polizia? Sarà meglio che sia questo il problema. Hai con te il denaro? Ti basta? Non male. Devi sapere che a me piace molto il denaro. Edmundo sarà molto soddisfatto. Ti contatterà presto. Signor Alifano, mio marito ha solo qualche minuto libero. Per favore, non lo faccia aspettare.